Ecco, guarda cosa hanno preparato finalmente gli studenti, finalmente siamo arrivati al dunque. Questa è la palestra teatro, dove vediamo gli spazi all'aperto, come sono, come sono gestiti. Qui l'anfiteatro esterno, col palco che si può aprire e gestire anche per eventi della scuola, che non può essere, poi ci accompagniamo con i venerdì, ma possono essere anche gli spettacoli che facciamo con i genitori, con altro. Qui recuperiamo addirittura, questa è un'altra palestra, dove vediamo addirittura come si inserisce la palestra all'interno del contesto. Se andiamo a vedere le aule che abbiamo alla scuola secondaria, sono aule tra l'altro pensate per l'IPAD e per appoggiare i quaderni nelle sedie come la normativa vuole, come spazi come sono appoglienti, il laminato in terra, le travi a vista del tetto, lo sfondato dove vediamo quel divanetto lì, in questo spazio, in quel cubo qui nella parete e gli armadi per archiviare tutta l'adumentazione. Questo è lo spazio esterno della scuola. Spostiamo i parcheggi, creiamo questo giardino davanti, tutto il presso scolastico, arretriamo il discorso della viabilità anche delle corriere per creare un sacrato finalmente davanti alla chiesa, che adesso il sacrificato non esiste. Potrebbe essere messo in questo palco qui da stato a Cerioli, potrebbe dare un valore che guarda la scuola. Qui, come si vede, per non creare volumetili che escono troppo dal terreno, abbiamo sfondato praticamente con una pendenza dell'8%, quindi per adattabili anche per i disabili, noi siamo tre metri appena dal terreno. Qui poi l'anno prossimo studieremo parco, il famoso parco dell'Andreana. E questa è un'altra vista dove si vede effettivamente la scuola, dove ragiona veramente, diventa uno spazio veramente accogliente. Ovviamente, io oserei dire, a livello proprio di studenti, dove lo studente viene con passione e con voglia. Questi sono i lavori fatti ai studenti, per cui la creatività degli studenti non è quella professionista. Hanno una metà età professionista, ma come dico sempre, sono pure casti e puri. Per cui realizzano veramente con passione e con autoverrezza, perché veramente si vede in questi render qui, che questa è una parte dei render che poi si vedranno domani sera, come veramente si riesce a trasformare un luogo. Benissimo. Vi aspettiamo allora venerdì 13. Avremo questo appuntamento con il professore Alberto Mezzana e i suoi 25 studenti di architettura per presentare la nostra scuola del futuro. Insieme alla palestra teatro, al parco, ci sarà anche il progetto della scuola nuova e della casa famiglia. Vi aspettiamo per condividere queste idee. We appuntamento con il professore dell'eclamento La scuola non è stata la discussionale, per cui è r 1919. Nove, qual 是crivete i della scuola di dove 2018 è quella famiglia di differenza. Questa è lairona della scuola